Incidente sul lavoro questa mattina a Bazzano, nel nucleo industriale, nel centro commerciale Oasi, che si sta realizzando nella zona est della città. Dalle prime ricostruzioni dei fatti, l'operaio, mentre stava lavorando, è caduto a terra, battendo la testa. È inciampata ad un filo, secondo quanto riferito dagli agenti della squadra volante intervenuta sul posto, coordinata dal dottor Nicola Di Pasquale. L'impatto è stato forte, ma fortunatamente l'uomo è cosciente ed è stato trasportato all'ospedale San Salvatore per fare comunque tutti gli accertamenti del caso. L'incidente è avvenuto intorno alle 12 e in un primo momento la situazione per l'uomo era sembrata ben più grave, tant'è che è arrivato sul posto anche l'elicottero del 118, che è atterrato nei pressi della stazione di Bazzano. Invece fortunatamente l'elicottero è stato rimandato indietro, poiché le condizioni dell'uomo, che in un primo momento avevano fatto preoccupare, sono sembrate subito non gravi, ha rimediato alla fine soltanto qualche punto in testa a causa della caduta.